Radio Radicale, il 2024 viene considerato come l'anno di Matteotti perché cento anni fa il deputato socialista venne assassinato mentre si regava alla Camera il 10 giugno del 1924. Qualche giorno prima aveva tenuto a Montecitorio un discorso in cui aveva contestato gli esiti delle votazioni dell'aprile del 1924 criticando il lavoro della giunta delle elezioni che era presieduto da Antonio Casertano. Noi parliamo di Matteotti perché Federico Fornaro ha pubblicato Giacomo Matteotti, l'Italia migliore, edito da Bollati Boringhieri, che è un saggio interessante non solo perché delinea l'ultimo periodo della vita di Matteotti e le sue battaglie contro il fascismo, ma ripercorre tutta la vita e l'impegno politico di Matteotti dalla nascita fino alla fine dei suoi giorni, indagando anche su come il mito di Matteotti è stato cancellato nel ventennio fascista. Allora, lei, onorevole Fornaro, è anche presidente della giunta delle elezioni sulla quale ci fu un grande scontro nel 1924 per l'esito del voto. Allora, che tipo di scelta ha fatto nel fare questo lavoro su Matteotti, sapendo insomma che quest'anno fioriranno tante pubblicazioni sull'argomento? Meno male, credo che Matteotti lo meritasse. In fondo noi abbiamo assistito a una sorta di paradosso. Mentre sul martire antifascista c'è stato un fascio di luce e di attenzione che porta ad essere a Matteotti la figura del Novecento più presente nella toponomastica italiana, strade, piazze, viali, sono oltre 3.000 in tutta Italia, una sorta di cono d'ombra è sceso sul Matteotti politico, sul Matteotti riformista intransigente. Io credo che invece proprio in questo momento, un momento difficile, complesso, anche rispetto alle questioni della guerra, riscoprire il pensiero di Matteotti sia utile e, come scrivo nel libro, debba e possa essere a pieno titolo parte integrante di quella cassetta degli attrezzi di una moderna sinistra di governo. Noi con i criteri di oggi non possiamo definire Matteotti come un massimalista. Allora, oggi come potremmo collocare Matteotti e soprattutto quale fu il suo rapporto con la sinistra e che tipo di percorso politico ha avuto? Intanto Matteotti è stato, lui lo ha dichiarato in più di un'occasione, un riformista, un riformista intransigente però, che da questo punto di vista metta a tacere un po' questa immagine, questa narrazione del riformismo come una corrente che alla fine ricerca sempre una soluzione al ribasso. Per Matteotti il riformismo è lo strumento per migliorare subito, il più presto possibile, le condizioni di vita materiale delle persone più deboli e quindi il riformismo come strumento per aumentare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Non si può comprendere, nel mio giudizio, Matteotti se non lo si inserisce nella sua terrenatia, nel Polesine. È in Polesine che Matteotti, di famiglia benestante, scopre la povertà, una povertà assoluta. Polesine di quegli anni, cioè fine Ottocento, è assolutamente uno dei territori più poveri dell'intera penisola e lui, come dicevo prima, benestante, che non ha mai patito la fame, che ha potuto studiare, sceglie di essere, nel titolo del capitolo del libro, un disertore di classe, cioè un disertore della sua classe per stare dalla parte degli ultimi, in una visione socialista che richiama molto quello degli apostoli della pianura padana, del socialismo agrario, da Prampolini a Badaloni, anche lui operante proprio in Polesine. Quindi è una riscoperta per alcuni versi e soprattutto l'idea che il riformismo non voglia dire fare compromessi sui valori fondanti. Matteotti è e rimarrà negli anni caldi della Prima Guerra Mondiale e dopo un neutralista assoluto e intransigente, riterrà la formula usata dal Partito Socialista dell'epoca né aderire né sabotare debole, avrebbe voluto un'azione più incisiva fino a ipotizzare la rivoluzione. Lui sostiene e scrive che un milione tra contadini e operai avrebbero potuto fermare una guerra, una guerra che alla fine è pagata sempre dai più poveri, dai più deboli e questa è una lezione che credo valga anche per l'oggi. Lui come si poneva nei confronti del giolittismo e soprattutto dove si ferma la sua vena rivoluzionaria? Lui è molto critico in particolare sulla figura di Giolitti, sul clientelismo, sulla gestione del potere giolittiana. Lui è un riformista che è convinto però che non si debba rinviare la soluzione dei problemi o la ricerca della soluzione dei problemi alla rivoluzione e soprattutto contesta l'idea che la rivoluzione si possa fare da un giorno all'altro. Occorre preparare il terreno per la società socialista e lo fa in prima persona, organizzando le leghe di miglioramento contadino, lo fa istituendo anche una struttura di consulenza per gli amministratori socialisti, per Matteotti, i comuni sono uno strumento insostituibile per fare quello che oggi chiameremo welfare, che allora non c'era, a condizione però, su questo lui è intransigente di nuovo, sul fatto che ci sia massima attenzione ai bilanci, il pareggio di bilanci, una gestione oculata e quindi una grande responsabilizzazione per gli amministratori socialisti in un po' l'esime che all'elezione del 1920, dall'ottuno del 1920, raggiunge la vittoria, consegue la vittoria in 63 comuni su 63 ed elegge 38 consiglieri provinciali su 40. Io ho visto che lei si sofferma anche sul diciannovismo. Allora, nel 1919 le sinistre hanno una grossa occasione per pensare nella storia di questo paese. Tutto però poi si sgonfia nell'autunno del 1920 con l'ultima esperienza di Giolitti. Lì c'è veramente un periodo molto duro, anche di rivolta nelle fabbriche. Allora, la sinistra riformista, come è Matteotti? Come affrontano quella stagione difficile e quel clima di scontro che poi porterà anche a un riflusso politico? Lo vedremo nel 21. Io ho trattato questo argomento nel mio libro precedente, Il collasso della democrazia. Concentrandomi su Matteotti in questo caso, Matteotti era alieno dal rivoluzionarismo verbale, criticava moltissimo la demagogia, era un uomo da questo punto di vista concreto e quindi affronta certamente la tempesta che segue alla guerra di un paese che è apparentemente formalmente vincitore ma è preso con una crisi economica molto profonda, con lo spirito di chi dice dobbiamo rafforzare e costruire gli strumenti a favore e a sostegno dei lavoratori. Quindi lui non c'è assolutamente invece quel vento che attraverserà pesantemente la sinistra italiana fino a far non vedere il carattere avversivo del fascismo, del fare come in Russia. Da questo punto di vista è un turatiano, ecco. Non che non ci fosse il fascino ovviamente della rivoluzione russa ma al tempo stesso anche l'invito che spesso ritroviamo noi siamo iscritti a mantenere forti le radici del territorio, in altri termini la Russia non è l'Italia e soprattutto le preoccupazioni nel vedere proprio nell'autunno del 20 il Polesi nel suo malgrado di diventare il laboratorio di quella che sarà poi la presa del potere violenta da parte del fascismo, le violenze che sono denunciate per la prima volta in Parlamento sono proprio quelle del Polesi, proprio da Matteo Otti nel gennaio del 21 in uno secondo me dei discorsi suoi più belli. Lui aveva subito, prima del 10 giugno del 1924, aveva subito aggressioni da parte dei fascisti? Assolutamente sì, ce n'è una a Castel Guglielmo nel 1921 su cui si è scritto molto su cui lui subì un vero e proprio sequestro con violenze da quel momento gli fu impedito Lui era già deputato Lui era già deputato e gli fu impedito di tornare a casa nella sua fratta Polesina e dovette diventare esule in patria in realtà a Padova e nonostante quello riuscirà a essere rieletto primo nella lista socialista nel 21 nel collegio Padova Padova-Rovigo E' importante a mio modo di vedere anche rispetto poi alle vicende drammatiche del suo rapimento e della sua uccisione come l'odio nei confronti di Matteotti in Polesi nei tre fascisti che Matteotti fosse molto forte già nel 21 e che alcuni dei protagonisti responsabili del suo sequestro perlomeno i mandanti materiali siano in realtà anch'essi collegati al Polesina e questo è un altro elemento quindi Matteotti era già odiato da deputato Polesano lo sarà ancora di più quando essendo uno dei deputati più attenti, più documentati diventa uno dei più tenaci oppositori di Mussolini Mussolini è molto infastidito tutti ricordiamo giustamente il discorso del 30 maggio del 1924 ma anche qualche giorno dopo ci sarà un battibecco molto forte in cui sostanzialmente Mussolini darà del bugiardo a Matteotti e Matteotti dimostrerà che il bugiardo invece In aula? Il consiglio è in aula, sì e ho ritrovato diciamo i resoconti e anche quello è un passaggio Mussolini infastidito anche perché i discorsi di Matteotti non sono intrisi della retorica dell'epoca e sono invece molto documentati è un parlamentare modello da questo punto di vista Lui frequentava molto le aule parlamentari cioè era uno degli... mentre per esempio di Gramsci si ricorda un solo intervento di Matteotti invece... Sono moltissimi interventi in aula moltissime le interrogazioni e soprattutto era ricordato come un assiduo frequentatore della Biblioteca della Camera che all'epoca era in questo palazzo nel palazzo di Montecitore dove oggi c'è l'aula del Mappamondo proprio perché lui intervenne molte volte su questioni economiche di bilancio ed era estremamente documentato per esempio avrebbe dovuto alcuni giorni dopo il 10 giugno, il drammatico giorno del 10 giugno intervenire sul bilancio e avrebbe con la biblioteca denunciato la presenza di un buco di bilancio e non solo ovviamente poi li riporta diciamo le varie tesi che io cerco di ricostruire per il lettore diciamo delle ragioni vere dell'uccisione di Matteotti Allora, la cosa che volevo capire è questa lui che atteggiamento ha nei confronti della scissione di Livorno? Lui è stato sempre un unitario è un riformista, appartiene a quella corrente non lo rinnega però vive con fastidio le divisioni interne al partito e lui parteciperò soltanto alcuni giorni i primi due giorni al terzo giorno andò via corse a Ferrara dove il segretario della Camera del Lavoro e il sindaco erano stati arrestati e di fatto andò a sostituire il responsabile del sindacato della CGL a Ferrara questo per dimostrare come dire che sì c'era una questione ma lui vive male diciamo la lotta tra lo scriverà tutte le volte prima del congresso interverrà sulla lotta che era settimanale polesano e l'invito diciamo lo dirà anche nell'intervento di un congresso che insomma la base tra virgolette voleva l'unità del partito e non le divisioni correntizie In merito agli ultimi giorni di vita allora c'è qualcuno ma io credo anche il figlio il figlio di Matteotti era convinto che il mandante sì Matteo Matteotti che poi è stato ministro figura importante della sinistra negli anni 50 e 60 era convinto che il mandante dell'assassino del padre fosse il re allora questa tesi che fondamento ha secondo lei il fatto che fosse formulata dal figlio ma Matteo Matteotti nel suo libro sostanzialmente sposa la tesi che le ragioni vere che portarono all'uccisione di Matteotti fossero riconducibili allo scandalo della Sinclair Oil a cui il governo fascista aveva dato una maxiconcessione per la ricerca mineraria per il petrolio in buona sostanza e secondo una ricostruzione che poi è fatta anche nel 74 con un'intervista fatta da un giornalista a uno della casa regnante la tesi è che di fatto i Savoia e Vittorio Emanuele il re d'Italia fosse diventato a libro fosse stato iscritto a libro soci della Sinclair Oil senza peraltro esborso di denaro ma certamente c'è un fondamento sul fatto che verrà riportato in un articolo pubblicato post mortem a Londra che i laboristi inglesi gli avessero fornito in documentazione rispetto a un possibile scandalo una sorta di tangentopoli nera è vero a supporto di questa tesi che i documenti che con cui Matteotti esce peraltro diciamo contenuti in un bustone che abbiamo ancora oggi alla Camera diciamo non sono mai stati ritrovati però al tempo stesso credo che non si possa disconoscere una natura anche un movente politico e quindi alla fine la mia tesi è che pensando a cosa è stato il fascismo cosa era il regime è impensabile che Mussolini non sapesse che cosa poteva succedere poi viceversa riporto anche le tesi di autori importanti storici come De Felice che sostanzialmente dicono che Mussolini ha avuto più danno che beneficio dalla morte di di Matteotti e che in fondo forse diciamo qualcuno è andato oltre le consegne era quello di dargli una bastonatura e poi invece è avuta la morte ai nostri fini diciamo quello che conta che è il fascismo che uccide uno degli oppositori più tenaci più preparati più competenti che diventerà un mito soprattutto all'estero ed è il suo ruolo di propagandista di una contronarrazione del fascismo ad infastidire di più Mussolini infatti per la tesi che io sostengo è che ci sono elementi per individuare una premeditazione cioè negli anni precedenti a Matteotti viene negato il visto per il passaporto lui lo chiede nel mese di marzo per partecipare a un'iniziativa dell'internazionalista a Vienna e un po' a sorpresa gli viene concesso viene concesso però con ritardo c'è lo stesso giorno in cui c'è l'evento quindi Matteotti non lo userà però mettendo insieme una serie di tasselli è ipotizzabile che Dumini e i suoi potessero avere in progetto l'uccisione di Matteotti proprio sul treno che portava che avrebbe dovuto portare Matteotti verso Vienna Dumini non l'ha mai citato questa possibilità perché lui ha scritto dei libri dopo la guerra Dumini è stato oltre che un assassino anche un ricattatore ha ricattato il regime per lungo tempo questa è un'altra ragione che va a supporto della tesi di un Mussolini colpevole perché se non con tutti avrebbe potuto avere n possibilità di mettere a tacere Dumini e i suoi invece Dumini e i suoi di fatto sono foraggiati dal regime per lungo tempo una curiosità che ho sempre avuto sul dibattito del 30 maggio sulla contestazione delle elezioni del 6 aprile allora io vedendo anche il film di Florestano Vancini io noto che Matteotti si scaglia contro Mussolini contro il presidente della Camera Rocco però io non vedo dallo stenografico gli interventi degli altri leader delle opposizioni allora io per tanto tempo mi sono chiesto perché l'hanno lasciato solo in aula nel senso che poi alla fine lui è emerso come il protagonista di quella seduta e credo che non so credo che quel giorno in tribuna ci fosse anche il figlio di Amendola che ricordava che ricordava chiaramente dalla tribuna di aver visto Mussolini fare un gesto come per dire a questo qui bisogna dargli una lezione si è attesa anche di di lusso allora il punto è questo che in realtà l'origine di quel discorso risponde a una tecnicalità cioè viene portata all'ordine del giorno della seconda seduta della nuova legislatura la convalida degli eletti ed è una convalida di oltre 300 nominativi quasi tutti non tutti ma quasi tutti del cosiddetto listone e lì sono impreparati vengono colti di sorpresa i rappresentanti dell'opposizione interviene Presutti poi a quel punto provano a forzare firmando diciamo al volo una tentativa una richiesta di rinvio degli atti alla giunta per approfondimenti e quindi Matteotti interviene lo dirà lui stesso nell'intervento a braccio che non è un intervento preparato avrebbe dovuto durare mezz'oretta durerà invece molto ma molto di più quello che sono riuscito a trovare ed è molto importante è che Casartano nella replica che lui fa cosa che non è normalmente pubblicata perché in molti hanno ripubblicato giustamente l'intervento ma non c'è la replica di Casartano dicendo a Matteotti ma guarda che i tuoi hanno votato hanno votato a favore in giunta delle elezioni sono riuscito di trovare le carte che dimostrano l'esatto contrario perché viene eletta vicepresidente della giunta delle elezioni Camillo Prampolini e Prampolini motivandolo voterà contro la convalida di tutti gli eletti e quindi da questo punto di vista si restituisce ulteriormente onore a tutto il gruppo certo è che anche all'interno del suo gruppo non tutti erano d'accordo su questa linea riporta una battuta di Baldesi deputato unitario ex sindacalista da CCL in cui gli dice ma allora vuoi farci ammazzare tutti dunque allora con la questione della giunta delle elezioni aperte della convalida degli eletti allora all'indomani del rapimento e non si sapeva ancora che era stato assassinato prima della scoperta del cadavere ad agosto e l'Aventino ha riguardato oggi con la luce degli occhi di oggi è stato uno degli errori più clamorosi che potesse fare l'opposizione in quel momento allora io sono sempre molto cauto perché come dire noi sappiamo com'è andata a finire in quel momento gli avventignani agli avventignani viene a mancare la sponda cioè il re a Mendole in particolare era convinto che alla luce dei memoriali che vengono pubblicati da alcuni dei responsabili dell'omicidio il re si convincesse della gravità della situazione invece il re sostanzialmente si gira dall'altra parte o si mette diciamo in una posizione molto legalitaria cioè se Camera e Senato non gli tolgono la fiducia io non posso non posso dimissionare Mussolini quindi l'Aventino con un altro re più attento in fondo era stato ucciso ormai era chiaro il principale leader dell'opposizione e il fatto che il Senato alcuni giorni dopo Rapimento avesse rinnovato la fiducia non spostava la questione morale cioè di fronte alla questione morale etica morale e politica che pone Rapimento e poi l'assassinio di Matteotti il re avrebbe potuto svolgere un ruolo molto più incisivo resta il fatto che perché alla fine è un doppio fallimento un fallimento perché non porta a un cambiamento ma soprattutto perché fa guadagnare tempo di fatto compra tempo Mussolini io racconto nel libro che Mussolini in quei giorni si sente isolato dice lui si è trovato in grossa difficoltà in grossa difficoltà anche interna nel paese l'eco del l'eco del rapimento fu molto vasto una parte dell'opinione pubblica moderata che aveva visto con favore l'arrivo di Mussolini in funzione anti bolshevica e antisovversiva di fronte all'uccisione al rapimento del principale leader dell'opposizione capisce che in realtà il carattere avversivo del fascismo è molto forte però ripeto verrà a mancare a questo mondo al mondo dell'opposizione una sponda naturale legalitaria del capo dello Stato che all'epoca era ovviamente il re Armando Casalini è il Matteotti fascista lo possiamo definire? No a me sembra eccessivo è stato chiarito che chiediamo per l'elettore Armando Casalini era un deputato che venne ucciso deputato del PNF fascista ex segretario del partito repubblicano che venne ucciso qualche mese dopo si cercò in qualche modo in maniera mediatica di riportare diciamo di fare un parallelo ma le indagini credo in maniera netta e chiara abbiano dimostrato che le ragioni dell'uccisione di Casalini non erano in nessun modo riconducibili diciamo alle fattispecie che portarono invece all'uccisione di Matteotti allora l'ultima cosa che le volevo chiedere lei dedica un capitolo su come la figura di Matteotti è stata il mito il mito sotterraneo di Matteotti è passato durante il ventennio allora nell'opinione pubblica non solo nel ventennio ma anche anche dopo allora quando ritorna la democrazia l'opinione pubblica italiana si ricorda di Matteotti assolutamente sì come dicevo un poc'anzi è il politico del novecento più ricordato nella toponomastica italiana non c'è città che non abbia un luogo dedicato alla sua figura è il mito dell'antifascismo ovviamente la sua morte ha rafforzato il mito io rifletto sul fatto che non altrettanta attenzione non altrettanto mito è stato coltivato invece sul piano sul piano politico in qualche modo anche lui finisce dentro una guerra a bassa intensità a sinistra prima tra socialisti e comunisti ma anche tra socialisti e socialdemocratici fino a metà degli anni 50 di fatto sono solo i socialdemocratici a alimentare diciamo la memoria si si pensa che la prima biografia peraltro non scritta da un accademico da un ottimo docente di scuola media superiore è del 1974 in occasione del suo cinquantesimo soltanto nel 1970 la Camera era pubblica in tre volumi i suoi discorsi parlamentari Matteotti finisce per pagare la dannazza e memoria del riformismo e quindi da questo punto di vista è interessante anche riflettere attorno a questo fino ad arrivare a una grande contraddizione io invito proprio il lettore alla fine a fare un piccolo esercizio un piccolo sondaggio chiedere o sui luoghi di lavoro o nel bar tra gli amici dove è sepolto Mussolini e credo che è ragionevole pensare che sia molto alta la percentuale di chi risponde correttamente cioè predappio chiedo poi di ripetere la stessa domanda e riferimento a Matteotti e credo che le risposte saranno sicuramente minori perché pochi italiani sanno che Matteotti è sepolto frattapevesi e questo in qualche modo riporta il tema dell'alimentazione sotterranea per molto tempo adesso molto più evidente del mito di Mussolini e come invece in fondo il mito di Matteotti sia stato un po' abbandonato soprattutto del Matteotti politico e del Matteotti uomo l'ultima cosa la commemorazione di Matteotti si fa qui il 30 maggio o il 10 giugno come si organizzerà la Camera che cosa si aspetta dalla Camera io presento il libro alla Camera il 25 di marzo alle 17.30 mi è stato detto dagli uffici che è prevista una commemorazione se non ho capito male ma aspetterà poi gli uffici fare la comunicazione il 30 di maggio con una rilettura anche del suo intervento la farà lei? no 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 dovrebbe farla lo fa la Camera beh io devo dire che sono stato molto emozionato perché quando in occasione dell'approvazione della legge di finanziamento delle celebrazioni abbiamo deciso di parlare dal posto in cui parlò Matteotti il 30 maggio dell'ultima fila a sinistra l'ultima fila a sinistra la terza partendo dal basso beh devo dire che mi sono un po' emozionato pensando che Matteotti parlò nel suo ultimo grande discorso da quella postazione sì un po' di emozione l'ho avuta immagino io intanto la ringrazio molto della sua disponibilità e invito tutti a leggere questo bel Giacomo Matteotti l'Italia migliore scritto da Federico Fornaro edito da Bollati Boringhieri che ci permette di vedere la figura di Matteotti non per diciamo l'ultimo periodo che è quello più scandagliato dagli storici ma nella sua interezza e anche nel dopo dopo la sua la sua scomparsa per capire come è tornata a crescere questa figura nella memoria collettiva degli italiani e di questo non posso che ringraziare Federico Fornaro che con il suo saggio ha dato ha messo un tassello in più in questo in questo grande ricordo grazie grazie a voi